Dopo una prima affermazione come conduttrice radiofonica e televisiva, nel 1982 avviene il suo debutto in veste di cantante ad un concorso per voci nuove. Nel 1982 firma un contratto con la IEP per la quale incide il suo primo singolo dal titolo Delirio. Ma il vero debutto nel panorama musicale italiano avviene al Festival di Sanremo nel 1983 nella categoria Debuttanti con Casco Blu posizionandosi al tredicesimo posto. Viene pubblicato il singolo Sanremese con lato B promessa d'amore che entra in classifica. Posizionandosi all'undicesimo posto, pubblica ancora altri due singoli. L'amore, non piangerò e rincontrarsi, se tu vuoi. L'anno dopo arriva terza nella sezione nuove proposte con Aspettami ogni sera di Eliop V. Magelli P., Lazzari Sebastiani. La IEP pubblica il singolo della canzone Sanremese che ha come lato B il brano Stella di Chi? E si piazza al diciannovesimo posto nella classifica dei dischi più venduti. Intanto inizia anche una carriera parallela come presentatrice televisiva di programmi musicali. Come discoteca festival e la IT parade. Nel 1985 è ospite fissa della prima edizione di Buona Domenica condotta da Maurizio Costanzo. Incide il singolo C'è una ragione, come stai? Nel 1986 torna al Festival di Sanremo. Nella sezione Big, con il brano Verso il 2000, che si classifica al diciannovesimo posto, viene pubblicato il relativo singolo Sanremese con lato B la canzone Mi manchi un po' di più che, si posiziona in classifica al ventinovesimo posto. Esce un altro singolo dal titolo Nuovo Amore mio, un angelo. L'anno successivo è ancora Sanremo con la canzone Canto per te. Classificandosi al tredicesimo posto, esce il singolo Sanremese con lato B la canzone Attimo Blu che si posiziona in classifica al ventinovesimo posto. Per la tourne sceglie come corista una cantante non ancora maggiorenne e famosa. Mietta, ritorna al Festival di Sanremo anche nel 1988 presentando il brano Una bella canzone che ottiene il ventiduesimo posto. Il lato B è costituito dalla canzone Anna lo sa che viene anche lanciato come singolo estivo. L'anno 1989 fa rivelare Flavia Fortunato come conduttrice nel programma quotidiano di Rai 1 dal titolo Buona fortuna estate. Proprio all'interno di questa trasmissione presenta il brano L'inseguimento. Un inedito scritto per lei da Cristiano Malgioglio e Franco Califano. Lo stesso anno debutta in teatro nella parte di Geni dei Pirati dell'Opera da tre soldi di Bertolt Brecht e Kurt Weill. Lo spettacolo viene allestito per l'inaugurazione del Teatro Bellini di Napoli. Nello stesso anno diventa corista in Per me, per te, per noi ciao ciao. Ritorna sul piccolo schermo nel 1990 su Rai 2 con 13 puntate del nuovo Cantagiro. Con la Fonite Cetra pubblica un album dal titolo Piccole Danze. Nel 1991 Flavia Fortunato è conduttrice ai microfoni di Rai Radio 1 nel programma radiofonico Via. Asiago Tenda. Nello stesso anno pubblica l'album Le Donne e Chi Sono? che contiene canzoni di autori come Cocciante, Antonacci, Mora e Fabrizio. Ritorna al 42esimo festival della canzone italiana in coppia con il compositore Franco. Fasano con Per niente al mondo. Che si classifica al settimo posto. La canzone Sanremesi ottiene un buon successo e viene inclusa nell'album Tempo al Tempo di Fasano. Insieme ad un altro duetto con la cantante. Dal titolo Nei miei pensieri. Nel 1993 è di nuovo attrice nella commedia musicale Victor Victoria per la stagione teatrale. 1993-1994. Dal 1995 al 1996 è alla conduzione radiofonica del programma Master di Rai Radio 1. Nel 1996 è tra i partecipanti di Viva Napoli. Gara Canora trasmessa da Canale 5 dedicata alla canzone partenopea nella quale presenta a Canzuncella, successo del 1977 degli Alunni del Sole. Nonostante l'ottima interpretazione però non giunge in finale. Nel 1998 e nel 1999, insieme a Mauro Serio, ha presentato le ultime due edizioni della trasmissione estiva Giochi senza frontiere. Intanto gira l'Italia con una serie di concerti accompagnata dal gruppo Effetti Collaterali. Nel 2005 torna sugli schermi televisivi. Come ospite fissa nel programma Tappeto Volante. Condotto da Luciano Rispoli. Dopo la nascita dei due figli. Decide di ritirarsi dal mondo dello spettacolo per dedicarsi alla famiglia. Il 29 ottobre 2010 è stata ospite dei migliori anni cantando Aspettami ogni sera.